Buongiorno, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 17 agosto e la rassegna stampa torna con i giornali in edicola. Sono le 7.30 sul canale 17, apriamo tutte le mattine la giornata con la prima diretta, con l'informazione su Fano TV. E allora, subito il santo di oggi. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Giovanna della Croce. Il sole è sorto alle 6.06, tramonterà alle 20.20, per oggi avremo un cielo sereno un poco nuvoloso. Le precipitazioni saranno possibili con isolati rovesci però nelle zone interne nel pomeriggio. Le temperature sono senza variazioni di rilievo. Per la giornata di giovedì 18 agosto, ancora cielo sereno poco nuvoloso, con possibilità di isolati rovesci nel primo pomeriggio nel settore montano settentrionale. Vedete, nell'Urbinate, ancora temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì 19 continua, persiste questa pioggia nell'entroterra, con rovesci sparsi più probabili nelle zone interne, sempre settentrionali. Avremo ancora cielo dunque irregolarmente nuvoloso. Ancora condizioni di instabilità lieve nelle zone interne per il fine settimana e per l'inizio della prossima, con un successivo però miglioramento. Allora, si parla questa mattina nei giornali, dopo la pausa di Ferragosto, si parla del maxi sequestro di quasi due tonnellate di hashish sbarcate sulla foce del fiume Metauro. L'altra notte, la banda di Albanesi, che è stata catturata dagli agenti della Polizia di Stato, fa scena muta, soltanto uno ha detto di essere lì per caso. Poi ci sono altre notizie di cronaca che andremo subito a vedere dai giornali. Ma il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, in primo piano racconta la storia che vi abbiamo raccontato anche noi ieri sera nel nostro telegiornale alle 20.30. La storia, bella storia, lieto fine, di una infermiera che si è trovata di fronte ad una situazione che è stata per fortuna gestita in modo molto professionale che ha garantito così alla persona anziana che stava per soffocare durante un pranzo di morire. Quindi, insomma, questa infermiera professionista, Maria Letizia Carfagnini, che è in servizio all'ospedale di Fano, ha salvato questa donna che stava soffocando al pranzo di Ferragosto. Era in vacanza a Campobasso, ha visto tutta la scena, è subito intervenuta. E c'è il racconto di questo intervento così tempestivo, di questa azione tempestiva e di questo epilogo felice. Il racconto è sul Corriere Adriatico di questa mattina. Mia mamma racconta il figlio è ancora viva, sei un angelo blu, le parole commosse, anzi, della figlia, della signora Anna. La figlia si chiama Anastasia Dota e ha raccontato appunto quello che è accaduto. E soprattutto la gioia di vedere la mamma riprendere conoscenza dopo i primi attimi davvero di paura. La signora ha anche perso conoscenza. Travolge una ciclista e fugge, però è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza. Lieve ferite per la turista, una turista tedesca che si trovava a Torrette di Fano. Dicevo, lieve ferite per lei. Denuncia, invece, patente revocata per il pirata 68enne. L'uomo è stato rintracciato, era a bordo di una macchina, di una panda bianca che è stata rintracciata anche grazie alle telecamere e ad un lavoro investigativo che appunto ha permesso di ritrovare, di rintracciare anche con queste telecamere, rintracciare il responsabile, il pirata così come viene definito. Poi, sosta selvaggia e rumore, Ferragosto al veleno, raffica di proteste per il fracasso notturno e il caos di parcheggi. Insomma, la notte di Ferragosto è stata per molti giovani fanesi una notte da sballo, per molti residenti invece una notte da incubo. Prepara la cena e scoppia l'inferno. Fiamme in cucina, grave una donna, questa è una notizia di ieri pomeriggio. È un incendio che è accaduto a Bellocchi, un'anziana è finita all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza. C'è stato anche un blackout nella zona, l'allarme è stato dato dalla figlia, era in giardino, quando ha sentito le urla disperate della madre. Vedete le pareti annerite dalle fiamme e i vigili del fuoco al lavoro. Questa è la cronaca sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Andiamo su quella della Valle del Cesano. Il turismo alza il volume d'affari, picchi di presenze per i concerti. Il sindaco di Mondolfo Barbieri dice che Marotta può diventare riferimento per la musica italiana. La serata dei cantautori e la gemburrasca hanno fatto da traino al trend positivo, mentre sotto da Orciano il mercato di San Rocco chiude con il botto. Questa sera il gran finale organizzato dal Proloco. La pagina invece 2D della Valle del Cesano racconta di uno scontro, uno scontro frontale tra due automobili finito per distruggere poi, che ha causato la distruzione di questo muretto di una casa, il cancello di una casa, il muro. In ospedale una delle due donne coinvolte in questo incidente, code e rallentamenti sulla strada pergolese. I residenti protestano per il traffico e la pericolosità dell'arteria. La pagina di Senigallia, eccola qua, aggredito in auto da due trans, coltello alla gola, fuori i soldi. Uno lo distrae, l'altro lo minaccia con una lama, senza scampo consegna tutto il denaro. Terrore alla Charmin, avevano la gonna in fuga con 1000 euro e 2000 franchi, questo è il bottino. Poi arriva il turista, ma la casa non c'è, addio vacanza, purtroppo Senigallia è vittima, ma così come altre località italiane di villaggiatura, di queste truffe. Truffe in aumento per quanto riguarda queste case in affitto che vengono prenotate, pagate con delle cauzioni in anticipo, caparre, però poi di queste case in affitto in realtà non c'è traccia. Quindi al turista, al villeggiante che arriva poi lì non trova nulla di quello stabilito attraverso la rete. E adesso andiamo a vedere il resto del Carlino. Cominciamo dalla pagina di Fano. Colla sui PC, il vinaville e birre in terra, bravata di Ferragosto alla biblioteca federiciana, forzata una finestra, indagano i carabinieri. Anche qui la notizia di un'anziana ustionata mentre prepara la cena, si tratta di Pierina Galdenzi, una pensionata di 89 anni. E poi la pagina invece 15 di Fano con due, purtroppo due morti. Roberto, Roberto Arcangeloni, strappato la vita da un male feroce, oggi c'è l'addio al milanese, aveva 49 anni, si è spento nella giornata di Ferragosto. L'amico Enrico Maria Regnier dice in tanti lo chiamavano Zelig, vivente per la sua grande ironia. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa della Gran Maria di Dio a San Lazzaro. Oggi, mentre questa mattina alle 10 a Centinerola, al Sacro Corso di Gesù, ci sarà l'ultimo saluto al 72enne Bruno Maurenzi. Invece lo vedete in questa fotografia, molti l'avranno riconosciuto perché per 40 anni ha gestito un negozio di alimentare, il Lungo Corso Matteotti, vicino alla chiesa di San Tommaso. La macchina da scrivere vola durante l'opera e colpisce una violinista che poi si mette a piangere. Roff, dramma sfiorato durante il Turco in Italia. L'oggetto in ferro è caduto da un tavolino della buca ed è andata a colpire la spalla della musicista che poi è scoppiata a piangere. Nel 98 al Pedrotti ci furono 10 feriti. Provava l'orchestra del Conservatorio. Il Turco è un'opera tormentata. Scrive, fa il punto il resto del Carlino perché ad ogni prova o recita è sempre volato qualcosa dal palco, sulle teste degli orchestrali. Fogli, un'altra volta gocce d'acqua o dei legumi. Insomma, porta un po' sfighe, non so come dire. Però, detta alla moda, però non è così chiaramente, sarà un caso. Truffe e furti invece, sempre a Pesero. Razzia nella notte a Media World. Rubati molti cellulari e PC portatili. Altri colpi sono avvenuti in ville dell'Edimar e in chioschi di fiori. Mentre in hotel la reception scopre un cliente con un falso nome. Era un nigeriano con tanto di famiglia al seguito che si spaccia per un sudafricano, ma la reception lo riconosce e quindi sono stati chiamati i carabinieri. Ed è finito in manetta. Ecco qua le fotografie della banda degli albanesi che ha lavorato tanto per portare la droga e la marijuana sul fiume Tauro. La banda degli albanesi fa scena muta. L'interrogatorio dei trafficanti tutti zitti. Solo uno dice mi trovavo lì per caso. Hanno scelto tutti avvocati di grido di diverse province d'Italia. Quindi questo fa capire che probabilmente dietro c'era una strategia. Nel senso che avevano messo in conto, comunque penso che chiunque lo faccia, chi fa questo mestiere illegale, metta in conto che prima o poi forse con la giustizia avrà a che fare. Quindi si porta avanti come hanno fatto questi cinque soggetti che già avevano il loro avvocato scelto. E questa è la storia. Dunque adesso bisognerà controllare, non è finita qui, chiaramente è una storia che prosegue, perché tutte le agende, i cellulari, il traffico telefonico, le lettere, le fotografie, per capire come una banda di trafficanti internazionali albanese possa organizzare e abbia scelto soprattutto la città di Fano per sbarcare quasi due tornellate di marijuana. Ecco, queste ed altre risposte dovranno arrivare nei prossimi mesi analizzando tutti questi oggetti, questi dettagli, queste cose. È un lavoro dagli sviluppi imponderabili. Ok, ci fermiamo qui per la rassegna stampa. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia. Buona giornata a tutti.